oggi parliamo della cometa di neanderthal quindi vediamo un pochettino come impostarla su stellarium perché ci sono delle comete che purtroppo non sono subito disponibili nel database di stellarium ma ci sono delle possibilità dei modi per poterle inserire e poterle così seguire seguire questi oggetti e in modo tale da poterli poi vedere con i nostri telescopi capire la traiettoria il periodo la magnitudine quando si sta avvicinando visto che ci stiamo avvicinando a questa famosa cometa abbiamo pensato di fare diversi video su di essa su cui anche poi una live in diretta per poterla osservare direttamente tutti insieme con un telescopio per ora fermiamoci un attimino a stellarium quindi iniziamo questa prima parte quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se volete rimanere informati su questa cosa seguire questo evento importante in modo tale che poi potete ricevere altri aggiornamenti altre informazioni altre cose ovviamente a voi un mi piace non costa niente un iscrivervi non costa nulla aiutate il canale aiutate noi a far sì che possiamo creare altri contenuti migliorare e quindi ci aiutate quindi perché ci sono molte persone che guardano ma pochi iscritti quindi iscrivetevi cioè quindi noi cercheremo di impegnarci a fare di meglio a offrire dei contenuti migliori ma abbiamo bisogno del vostro aiuto quindi voi citare un piccolo click quindi attivate la campanellina di iscrivete e noi gli offriremo tanti altri contenuti migliori maggiori e gratuiti soprattutto allora ritorniamo a noi vediamo un pochettino cosa fa una volta aperto stellarium penso una volta chi ce l'ha installato lo installa lo configura in base alla propria posizione eccetera eccetera poi faremo un video anche su stellarium sulla prima configurazione ecco qua qui come vedete c'è una simulazione della volta del cielo che vi fa vedere quindi in tempo reale vi dice qua già abbiamo impostato l'orario tutto eccetera eccetera allora vediamo un pochettino come trovare questa comita di neanderthal quindi oppure la c slash 2022 e 3 siglata così su finestra di configurazione su plugin ovviamente come vedete questa comita ora di notte già non è più visibile allora allora vediamo a chi ora questa comita si vede ma eccola qua eccola quindi un'altra volta abbiamo qua finestra di ricerca clicchiamo sulla vende e basta l'orizzonte nord est verso se sono le 1 e 40 quindi scusatemi la tosse sto ancora riprendendomi purtroppo e non è un periodo dei migliori ma diciamo così ok cerchiamo di capire le costellazioni ecco la corona boreale si perché il riferimento è questo è molto bassa all'orizzonte quindi chiamo che ci dobbiamo un po impegnare per poterla osservare però con la finestra del tempo date ora possiamo vedere eccola qui per esempio passi che poi diventa alto durante la notte perché beh impostando il 12 gennaio 2023 è quindi se poi ci avviciniamo verso la fine del mese eh sì ma iniziamo per impatti vedete più visibile aumenta la magnitudine già stellari mi fa la simulazione già a mezzanotte si vede alle 10 quindi è un orario molto più comodo per poterlo osservare ma anche soprattutto a livello di magnitudine eccola qua vedete quindi ecco questo è l'arim questa è l'utilità perché io posso vedere simulare le migliori condizioni per poter osservare un oggetto e soprattutto dove esso si trova dove esso è situato comunque questo primo video sul sulla cometa di neanderthal che ci viene a trovare come dicono da muovi dopo dopo tanti 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 anni è concluso e spero di essere stato d'aiuto in questo video di avervi aiutato a trovare a costellare questi oggetti un po particolari che non sono nel database in modo semplice però seguiteci così vediamo il prossimo video sempre ne rende la cometa di neanderthal e vediamo un attimino la sua traiettoria vediamo un pochettino come fotografarla come vederla come osservarla e quant'altro quindi restate aggiornati informati e iscrivetevi al canale per restare aggiornati sui prossimi video ok ciao e al prossimo video ciao 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 ciao